L'assist è di Nicola Maggi che ti servirà, valla, come fossi in casa. Mettiti in favore di camera. Girati in favore di camera. Scusa, scusa Nicola. Solo destro. Può fare anche solo un piede, hai due tentativi. Vediamo come te la cavi, vai. Uno, due, 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 attenzione, due. Il record quant'è? Il record è 43 palleggi. Lo scorso anno Alberto Pambianco, direttore sportivo del San Benazzo, basta da fare il dirigente, vai. Dopo aver rintornato il record giustamente. Uno, due, tre, quattro, 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 quattro. Ti meriti comunque l'applauso. Tutti al centro dello studio per il classico selfie che chiude ogni appuntamento di Caffè Sport. L'occhiale te lo puoi tenere. Nicola Maggi si deve mettere la maschera.